Mi chiamo Andrea e vivo a Conegliano. Dovrebbe essere più sistemata, dove abito io ci sono un sacco di rifiuti e dovrebbero rimediare. Il rapporto tra Conegliano e il mare non è buonissimo. Gli altri dicono che sia buono, ma per me no, perché è sempre un po' sporco, pieno di rifiuti. Il mondo sta diventando sempre di più inquinato e quindi vogliamo salvarlo. Nel futuro, con le piccole azioni che noi facciamo, possiamo cambiare e anche noi possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo. Questa settimana sono venuti ai ragazzi di V-Part a farci fare il progetto Immaginare Genova. Abbiamo pensato un po' all'ideazione del nostro poster e come farlo con la realtà aumentata. Con l'applicazione V-Part possiamo infodrare il poster e possiamo vedere un'animazione. La mia idea era l'evoluzione dell'uomo. Il sacchetto è diventato più grande perché in passato noi non sporcavamo il cibo. Fino ad arrivare ai giorni nostri che l'uomo ormai è schiacciato dal sacchetto. Per me l'inquinamento è come se una persona ha due panini davanti, mangia il primo e si sente bene, che non è l'inquinamento, è il pulito. Invece l'altro lo mangia e si sente male e gli fa schifo, che è l'inquinamento. Praticamente è una cosa che fa star male la gente e che va migliorata togliendola. Praticamente è un po' all'inquinamento.